Chiudi gli occhi. Immagina Millie. Immagina che ti stia baciando. Il resto dovrai immaginarlo da sola. So solo che ho bisogno di vederti. Che fai a San Juan? Rimango a casa. Una festa di San Juan non farà male a nessuno. Allora fammi sapere se cambi idea. O la scusa. Indovina chi è tornato. Non lo so, le Spice Girls. Ressidalgo. Vuoi salutarmi? Dove andiamo? In vacanze. Mi sei mancata. Che ci fai con noi? Ciao! Ci ha invitati lui! Nascondere la nostra storia è ridicolo. Credi che i tuoi fratelli siano idioti? E sai dirmi dov'è? Non ne ho idea. Come va Stoccolma? È facile lasciarsi trasportare se tutto va bene. Che ci fai qui? Ares ha parlato di te per tutto l'anno. Sei fortunata, Raquel. I fidanzati sono di passaggio. Gli amici sono per sempre. Smetti di agire dai dango e comportati da fidanzato. Credevo che tu stessi andando avanti con la tua vita. Verità o va? Se in questi mesi ci siamo allontanati vorrà dire che ci cercheremo fino a ritrovarci. Grazie a tutti.